buongiorno a tutti ragazzi eccoci qua oggi per la prima sessione di trading del 2019 faccio subito un po di giro di valute in revolution e poi dopo parliamo di una cosa interessante e parliamo in generale qui c'era un bell'occasione c'era una bellissima occasione solo che non l'ho presa perché ho avviato il video ho perso quel secondo determinante benissimo allora la settimana prossima cari signori vi mostrerò un video interessante che farà secondo me anche ridere perché siccome io mi scredendo in casa mia sorella non crede a quello che faccio e dice no ma non è possibile così qua non ci credo chissà che combini tu sai che come tu guarda è questo questo è questo è molto semplice uso questa strategia faccio trading in questa maniera e ha detto allora scusatemi sei così perché non mi ti do i soldi e investirli subito la forbizzi e dimostrami che è vero ho fatto va bene dai però non voglio rischiare così colà ha fatto bene dammi i tuoi soldi l'ho convinta ad aprire un skrill post e pay quant'altro e lo sta facendo e la settimana prossima con 50 dollari iniziamo con il minimo faremo un'operazione con il suo conto per dimostrargli che da 50 può arrivare 80 poi da 80 può arrivare e poi dare lo start vedremo se riuscirò a dimostrarglielo lo faremo insieme con pocket option oggi invece siccome non era pronta ancora con una poste preghe e non ancora aperto screen dobbiamo acconegarsi del conto oggi faccio oggi farò con al pari allora vediamo facciamo in giro di valute perfetto guardate qua qua avevo che bella salita qua avevo perso il punto eh eh vabbè nella vita non si può vedere tutto va bene ok 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 jpg a 15 minuti va bene eccoci qua 100 euro 100 dollari per fare 180 confermiamo ok perfetto siamo entrati in revolution con la mitica strategia revolution che utilizziamo sempre ricordo che la strategia che sto utilizzando in questi video ha un prezzo di euro 130 150 con la lezione esplicativa 200 con lezione più revolution più vincere in 60 secondi cioè strategia ai 60 secondi chiamo questo sistema go ts cioè goal oriented trading system cioè sistema di trading orientato al risultato veniamo a noi eh detto questo per chi si collega oggi magari vuole sapere eh vuole informazioni sulla strategia che io sto utilizzando adesso e vi garantisco che facendo trading ogni giorno con poche operazioni quotidiane si può arrivare a a risultato quindi a crearsi una rendita uno stipendio mensile eh e a prendersi le nuove soddisfazioni con un sistema come la revolution che è il 95 per cento di riuscita di eh di profittabilità e ormai è storia basta guardare i miei video e si eh si capisce tutto per qualsiasi cosa io sono sempre a disposizione via telefono via mail e quant'altro quindi anche durante lo studio io non vi lascio soli detto questo vediamo al tema di oggi allora un amico nei commenti mi ha chiesto cosa ne pensi giovanni dell'analisi tecnica è una possibilità si guadagna con l'analisi tecnica oppure no qual è la tua opinione al riguardo allora per parlare adeguatamente di questo non devo mostrarvi la definizione di analisi tecnica capiamoci e capiamo che cos'è in un'economia in economia l'analisi tecnica e lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo allo scopo di prevederne le tendenze future mediante principalmente metodi grafici e statistici in senso lato è quella teoria di analisi ovvero insieme di principi e strumenti secondo cui è possibile prevedere l'andamento futuro del prezzo di un bene quotato reale o finanziario studiando la sua storia passata viene utilizzata assieme all'analisi fondamentale per definizione di delle decisioni di operatività finanziaria allora cosa è molto semplicemente è l'analisi dei grafici storici quindi del passato del giorno precedente della settimana precedente del mese precedente mediante supporto di grafici o altri strumenti e anche l'analisi dei prezzi al fine di fare delle previsioni future abbracciandoci ad una teoria che dice che è più facile che un trend abbia un andamento continuo piuttosto che una brusca inversione e si può affermare che è destinata a proseguire finché non mostri chiari segni di inversione beh questa è la definizione di analisi tecnica è il fatto appunto che la storia si ripete come un'altra teoria alcune critiche però vi sono a questo approccio ed è la tesi che io sostengo e cioè è vero ma consideriamo l'alea quindi la teoria del random walk cioè che effettivamente c'è una aleatorietà per cui basandoci soltanto su una analisi del passato non possiamo prevedere il futuro e soprattutto le previsioni sono comunque poco precise per cui noi che analisi utilizziamo rispondendo all'amico questa è la definizione di analisi tecnica io sono convinto che è utile ma da sola non basta cioè non basta il solo studio dei grafici soprattutto andiamo qua se studiamo un grafico qui mi vado a tracciare il trend bear il trend bull quello che è me lo vado a tracciare me lo vado a studiare mi vada però poi dopo non mi dice cosa fare non mi dice come investire non mi dice quando e perché fare le cose non mi dice in futuro come andrà in maniera seria ma perché in passato sta salendo quindi continuerà a salire ma non è detto perché guardate qua qui ha fatto questa discesa qui stava scendendo poi dopo ha preso una piccola salita cioè guardate lì qui si è ma continuerà a scendere ma chi lo dice cioè chi lo dice per cui l'analisi tecnica da sola non basta non si può fare trading di sola analisi tecnica per cui se pensiamo e se la domanda è si guadagna con l'analisi tecnica vi devo dire di no tuttavia è di supporto alle strategie ad esempio anche la revolution vi è un pizzico di analisi tecnica soprattutto quando guardiamo il nostro m15 qualcuno di voi già saprà e capirà a cosa mi sto riferendo noi invece io nella revolution ma noi e voi che lo utilizzate è la mia insomma quello che io credo utilizziamo un'analisi chiamata matematico statistica che non si concede sul passato e né sul prezzo ma sul futuro e sul presente cioè noi guardiamo quello che sta accadendo ora con degli indicatori matematico statistici complessi che voi ben conoscete nella revolution e andiamo a capire quello che accadrà a breve e come accadrà e io in base a questo mi muovo ci vado ad entrare con l'opput e a mettere la durata in base agli indicatori questa è la differenza fondamentale tra l'analisi tecnico statistica della revolution e l'analisi tecnica pura che è quella in oggetto di discussione quindi a me non mi interessa che statisticamente se va a 107,760 il prezzo sale e scena a me non mi interessa il prezzo può essere anche 0,1 è un valore convenzionale a me interessa il movimento del prezzo e io come lo prevedo? lo prevedo guardando ora la situazione e facendo delle previsioni questa è la differenza fondamentale per cui ecco perché io vi ho sempre detto e me ne battevo tanto tempo fa ma continuo a dirlo che fare trading semplicemente informandosi quella da internet non ha senso perché andrete appunto a scontrarvi e a imparare a fare l'analisi tecnica ma purtroppo signori non basta nel forex è più utile delle binarie questo sì ma non basta da sola chiaro? quindi voi potete trovare su internet tutto quello che volete ma non sarete mai in grado di fare trading se non inventate voi o vi acquistate strategie come la revolution tecnico statistiche che si basano sulle statistiche su indicatori matematico statistici particolari altrimenti successo non se ne può avere perché ve l'ho spiegato quindi quando qualcuno vi vende dei prodotti strategie o corsi o quant'altro capite subito e domandate se si tratta di analisi tecnica o meno se si tratta di analisi tecnica mettetevi bene in mente che con quel corso o con quella spiegazione non sarete mai in grado di fare trading per cui iniziate a capire che magari avete pagato troppo o troppo poco quindi se le persone però vendono come analisi tecnica e vi spiegano che non serve a fare trading e voi non vi aspettate questo va bene acquistatelo ma se voi vi aspettate che con lo studio dell'analisi tecnica impariate a fare trading per portare fuori soldi subito dal trading vi sbagliate, non basta e chi ve lo vende per quello vi sta prendendo in giro l'analisi tecnica è bella, è utile e io stesso mi piacerebbe insegnarla perché sono appassionato anche di macroeconomia di movimenti finanziari e politica economica sono molto appassionato di questo, l'ho approfondito anche all'università e sono felice, mi farebbe piacere però le persone che scrivono trading online, le persone che mi contattano, le persone che guardano i nostri video i miei e quelli degli altri colleghi, sono persone che vogliono avere successo ora e subito non vogliono perdere il tempo, per cui noi dobbiamo dare delle strategie operative come la revolution cioè strategie che sono subito operative, punto, non mi interessa quello che c'è dietro, andiamo al sodo poi dopo ci guardiamo il passato, guarda questo grafico, l'analisi, è importante però fa parte del bagaglio culturale e personale, che una persona dopo che ha iniziato a essere profittevole allora mi può dire Giovanni, guarda mi piace l'analisi tecnica, tu sei in grado di farla ti pago una lezione, consigliami qualche corso ma dopo che tu sei già cosciente e già sai fare trading e già hai guadagnato e già hai risorse da investire allora sì, ma mai prima, quindi attenzione, attenzione, attenzione a questa cosa perché il web è pieno di questi pseudocorsi che vi vogliono insegnare, vi danno cose teoriche poi vi vai a tastare e loro non sanno nemmeno fare trading, queste persone che insegnano il trading è una cosa semplice, è una cosa per tutti, ma va imbroccato la giusta direzione, la giusta strada proprio per questo ricordo che il percorso che io consiglio è quello di iniziare con la revolution poi dopo un mese, circa un mese, iniziate con la sana segnali perché il bot nella sana segnali vi darà la possibilità di prendere i segnali e filtrarli con la strategia e non andare a perdere tempo come ho fatto io prima, cioè a cambiare il giro delle valute eccetera ed inoltre siccome il bot già vi imposta il time frame per chi ha studiato la revolution e la difficoltà vi aiuta tantissimo e il primo gennaio la sana segnali ha fatto un anno e sono felice di questo ricordo il prezzo di 150 euro annuali, si crea una bella community e saremo tutti, mi auguro, presenti al primo corso live che farò a Montecatini Terme a maggio, a breve uscirà la data, per informazioni avete tutti i miei contatti l'operazione dopo un inizio positivo ci sta facendo tribolare, però paura non me ne fa vediamo un po' se è, uff, benissimo, la prendiamo a prendiamo e questa volta, guardate bene questa operazione sarà presa perché ho impostato bene il time frame perché se fosse stato il time frame di 10 minuti l'avremmo persa ma c'era una situazione da 15 minuti e magari qualcuno di voi già appizza l'occhio e capisce il perché riguardo al video della settimana scorsa in cui rispondevo alle offese di razziste e alle critiche, molti di voi mi avete scritto, grazie veramente, grazie mille sono commosso dai messaggi di stima e di affetto che ho ricevuto via mail e via telefono da persone che non conoscevo, che sono presentate e mi hanno sostenuto, grazie mille però molti mi hanno detto giustamente, Giovanni, queste persone non meritano la tua risposta allora, quando si mette in dubbio cose oggettive, quindi che questa penna è nera mi dice che sia bianca, io ti faccio una foto e ti dico è nera così come è accaduto per il fatto del prelievo che dicevano che io non avevo depositato avevo perso e quant'altro però poi quando si offende, sulle critiche infondate inizio a non rispondere più perché sennò stiamo sempre a dire le stesse cose ma sul resto rispondo, sul terrone, sulle offese razziste, perché? perché rispondendo e dicendo in faccia le cose come stanno, come ho detto a queste persone perché saremo noi del sud a dover odiare il nord e tutte le altre ragioni e soprattutto umiliandolo in faccia a tutto YouTube così si combattono con la non violenza e i violenti così come quando negli stati si inizia a fischiare i burazzisti come per Coulibaly a quel punto bisogna abbandonare il campo perché? non perché si vuole essere violenti contro quelle persone violente ma perché bisogna dimostrare e isolare i violenti cioè dire a queste condizioni noi non giochiamo è una giornata di sport e noi non passiamo un momento di sport con gente che si comporta in questo modo così come io stesso, YouTube è pubblico ma sul mio canale vengono isolate queste persone che si permettono di dire questo perché come ho sempre detto contestate la tecnica, contestate quello, contestate quell'altro ma fatelo con mezzi ma se voi venite a dire l'accento da terrone, terrone di merda, bambino di merda e tutto il resto allora io non accetto, io vi umilio e ve lo dico unica ragione per cui ho risposto e ho risposto perché non è la prima volta che mi sentivo dare del terrone a me poi è una cosa che manda in bestia perché vi ho spiegato storicamente le ragioni e allora lì non ci vedo più mi inizia ad indermosire e io come giustamente dico faccio vedere ai violenti e li isolo basta come diceva Gandhi la non violenza allora l'operazione sta andando eccola qui perfetto, perfetto, perfetto tornando al discorso dei corsi dell'analisi tecnica è come se voi dovete iniziare trading e iniziare a fare trading significa sì investire un po' di soldi inizialmente per studiare sì ma volete anche risultati e venire a farvi e a darvi un corso con analisi tecnica e con nozioni teoriche generali sarebbe anche da parte mia o da parte di chi c'è da questa parte disonesto perché inutile e perché non appunto non onesto cioè io so che non ti sto favorendo ma ti sto dando qualcosa che non ti potrebbe portare a dei risultati reali chiaro? questo è il discorso è come se è come quando Maria Antonietta di Francia gli fu detto regina non c'è più pane e lei disse chi mangia brioche che mangia le brioche è come se io gli sto dicendo guarda Giovanni vorrei cambiare la mia vita voglio iniziare a guadagnare e io gli dico però l'analisi tecnica il grafico le resistenze ti faccio non ha senso dopo una volta che tu c'hai il pane mangi la brioche o no? è giusto? quindi prima il pane guadagniamoci il pane così come vi sto mostrando da sempre e poi ci mangiamo la brioche Giovanni me la può dare la brioche tutti me la possono dare la brioche ma non vorrei mai spacciare la brioche per pane chiaro? eh quindi inizia perfetto perfetto ragazzi sta andando benissimo e sono molto contento dai iniziamo bene questo 2019 nel 2019 faremo più video sarò più presente quindi condividete i video se vi piacciono su facebook quello che è iscriviti al canale e farò un altro canale a tema criptovalute un altro tema complesso e lo affronteremo insieme e farò più video sarò più presente cercherò anche di migliorare un po' su grafiche e quant'altro visto che è proprio basilare vedremo ci proverò mi sono dato questo proposito per il 2019 allora ragazzi vi ricordo per la revolution per le strategie avete tutti i miei contatti avete tutto il prezzo lo conoscete mi condattate ci facciamo una chiacchiera ci conosciamo in amicizia come faccio con tutti e niente però sarà segnale ugualmente vi auguro un buon fine settimana ci vediamo molto presto con altri video spero simpatici come questo ciao ciao